Mi trovo progressivamente, quasi senza accorgermene, dentro le faccende clandestine. Ora si tratta di portare il medicinale ai feriti. Ora un messaggio in montagna. Ora di accompagnare alla frontiera svizzera un ragazzo ebreo che è stato catorato a Milano ed è riuscito a scappare di prigione. Ora si deve nascondere un ragazzo ferito in una casa di città. Ora bisogna ascoltare di nascosto Radio Londra per il lancio delle armi. Ho persino un nome di battaglia. Mi chiamo Bruna e la mia amica che è bionda si chiama Chiara. Una volta, molti mesi dopo, il messaggio di Radio Londra sarà Bruna sta bene. È vero, sto sempre benissimo, nonostante il maltempo, il cattivo cibo e gli scarponi che non tengono più. È il segnale che ci sarà un lancio di armi per noi. La mia bicicletta, intanto, è diventata proprio un ferro vecchio. Non ha fanale, né freni, né campanello. Quando è in movimento non ha più inibizioni. Una volta all'altra mi formerò sbattendo contro un muro. I compagni partigiani mi regalano una bicicletta nuova, requisita. Ne sono orgogliosissima e anche piuttosto imbarazzata, ma con molta delicatezza mi si fa sapere che è stata requisita, rilasciando un regolare buono di prelevamento e comunque in un'altra città. Imparo il linguaggio della clandestinità, a passare inosservata, a non fare discussioni in pubblico, a cambiare strada quando ci sono assembramenti, a non rivolgere domande personali a quelli con i quali vengo in contatto, a dimenticare nomi e indirizzi ogni volta che ho terminato una missione. Dissemino stampa clandestina, cucio mostrine e coccarde. Nella cantina di casa ci sono bombe, fazzoletti azzurri e verdi, mostrine tricolore e copie del nostro giornale, il Ribelle. Mi si comunica che sono diventata staffetta, cioè che svolgerò un servizio regolare di collegamento e di notizie tra il CLN di Novara e le formazioni che sono in montagna, visto che ho abbastanza resistenza a girare in bicicletta. Ho un recapito fisso una volta alla settimana e altri lavori occasionali. Questi sono i più interessanti, anche se talvolta i più pericolosi. Come staffetta me ne andavo in bici su e giù per la valle, arrivavo a certe case o cascine o baite e lasciavo stampa clandestina, messaggi scritti o imparati a memoria, medicazioni per i feriti, qualche volta plastico per attentati a ponti o ferrovie. Tra lo sfollamento precedente e il periodo resistenziale avevo macinato così tanti chilometri da dire che dopo la liberazione mi sarei presentata al giro d'Italia. Sarei arrivata a maglia nera, ma sarei arrivata. Spero che venga presto il caldo perché fino a che fa freddo il plastico bisogna portarselo addosso, a contatto con la pelle diventa pericoloso ed esplode con il freddo. Io non porto armi, devo dire, soprattutto perché ho paura di farmi male da sola. Le formazioni non obiettano, ricordo ciò a gloria della resistenza. Penso però che far saltare un ponte o interrompere una ferrovia significhi evitare l'arrivo di truppe e ridurre il rischio di vittime civili. Per questo non porto armi, ma il plastico sì. Per quanto cerchi di ricordare con un tono scanzonato, i fatti tragici non posso dimenticarli, quelli che per la prima volta mi hanno fatto guardare alla mia città come a una giungla. Un giorno ero avviata verso le carceri. Sulla piazza era steso, raccomitolato e tutto riverso nello stesso tempo, un morto, un ragazzo. Un paio di insistenti schifose mosche sul viso giallo, le mani rattrappite, una sigaretta in bocca per dispregio, un cartello sul petto, così finiranno tutti i banditi. Aveva capelli ricci e fitti, cartani, viso regolare con un naso affilato. Ai lati stavano un milite delle brigate nere e un'ausiliaria fascista. L'ausiliaria aveva il compito di impedire che le donne passando si segnassero. Fu il primo di numerosi fucilati che in seguito vidi nella mia città, nei paesi. Quello mi era sconosciuto. Più di uno dei successivi invece noto. Nella memoria, i fatti non sono situati secondo una cronologia attendibile. Si susseguono secondo valori o sensibilità particolari. Fughe, allegrie, ansie, speranze comuni, paure, fami, stanchezze, volti di carcerati, visi tumefatti di quelli che tornavano dagli interrogatori, il senso gelido che qualcuno ha spiato, l'angoscia di arrivare in tempo a portare una notizia che può salvare una persona. Le risate liberatorie di quando, con un altro, tornavamo da una missione con un pacchetto di bombe e un fascio di giornali clandestini sul portapacchi della bicicletta. E il pacco dei giornali si rompe e facciamo una gran fatica a respingere l'aiuto di un cortese carabiniere che passa di lì e vorrebbe aiutarci a rimettere a posto il tutto. E la FIFA pensare che poteva disfarsi il pacco delle bombe. E poi ricordo sempre Gino Sinigaglia e sua madre, una palida signora col mal di cuore. E le famiglie dei prigionieri politici. E le tregue. E gli scambi di prigionieri combinati in vescovado. E alcune signore novaresi che vanno in prigione perché i figli sono renitenti alla leva. Impariamo a conoscere il tremendo termine rappresaglia. Se i figli non ci sono, per rappresaglia vengono arrestati i genitori. Se un sospettato politico è riuscito a scappare, per rappresaglia vengono arrestati la moglie o i figli o le figlie. Se un soldato tedesco o un fascista viene ucciso, per rappresaglia vengono fucilati dieci detenuti politici o degli ebrei. La città diventa sempre più inospitale e nemica. Il comando germanico ha requisito alcuni palazzi per insediarvisi e divide tutta la città con muri e steccati e cavalli di frisia e nella loro cittadella non si entra senza un lascia passare senza controllo. Si ha notizie di paesi interamente bruciati. I tedeschi, guidati dalle brigate nere, li circondano. Vogliono notizie dei banditi. Chiedono una fortissima taglia che di solito il parroco si impegna a raccogliere. Ma una delle cose più angosciose è quando ci annunciano che alcuni detenuti politici vengono prelevati dal carcere per essere mandati a lavorare in Germania. Le prime volte ci credevamo, ci davamo da fare per equipaggiarli e per fornire loro da mangiare e da coprirsi, ma i due primi convogli finiscono in una carneficina. Uccisi durante un tentativo di fuga. Chi ha vissuto quei tempi conosce la tragica epocresia di simile motivazione che veniva usata per giustificare esecuzioni senza processo indiscriminate. Sui muri della città comparvero manifesti a firma del generale Kesserling con i quali si prometteva un premio di lire 3.000 oppure 5 kg di sale a chi avesse fornito notizie atte a trovare oppure avesse consegnato prigionieri inglesi o americani fuggiti, aviatori alleati caduti e ricoverati dai contadini, oppure banditi. Chi invece nascondeva o aiutava le suddette persone sarebbe senz'altro stato fucilato. 3.000 lire o 5 kg di sale, diceva in orrivita la mamma, sono proprio i 30 denari di Giuda. Mi pare scandaloso persino che si sia trovata una tipografia per stampare simili manifesti. L'epigrafe di Piero Calamandrei indirizzata ad Albert Kesserling. Kesserling è stato un criminale di guerra che si è reso responsabile della strage delle fosse ardiatine, di quella di Mazzabotto e di altre ancora. Nel 1947 è stato condannato a morte ma poi la pena è stata tramutata in ergastolo. Ma nel 1952, per supposte ragioni di salute, è stato scarcerato ed è ritornato in Germania accolto come un eroe. Al ritorno in patria ha avuto anche l'impudenza di dire che non rinnegava niente del passato, che lui si era comportato bene durante l'occupazione e che anzi gli italiani avrebbero dovuto fargli un monumento. Di fronte a questa provocazione Piero Calamandrei ha scritto questa nota epigrafe. Lo avrai, camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli che ti viderò fuggire. Ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato fra uomini liberi che volontari si adunarono per dignità e non per odio decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai. Morti e vivi, con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento, che si chiama, ora è sempre, Resistenza. Le file partigiane si ingrossano molto negli ultimi mesi. Le opinioni dei politici e di coloro che militano da lungo tempo sono varie. In ogni modo è almeno un segnale di fine. Gli operai nelle fabbriche accentuano la resistenza, particolarmente pericolosa, in quanto essi sono tutti militarizzati e l'insubordinazione e il sabotaggio diventano crimini molto più gravi se giudicati secondo il codice militare. Del resto si sa che nelle grandi città industriali i sciopri del 1944 e la resistenza degli operai sono stati tre motivi più spettacolari e più sanguinosi della lotta. A Genova sono avvenute delle decimazioni tra gli operai e a Milano e a Torino tra le fabbriche e le formazioni di montagna c'è un rapporto continuo e organizzato. Anche a Novara l'area è la medesima. Quando i tedeschi pensano di smontare le fabbriche dell'Italia del Nord, gli operai rendono spesso inservibili le macchine e quando ricevono commesse di materiale bellico cercano di sabotare la produzione. Con i ricordi lieti e tristi, epici e comici, potrei continuare chissà quanto. La notte dell'insurrezione, i partigiani che stabiliscono una specie di armistizio con le truppe tedesche, li occupano Novara in attesa dell'arrivo degli alleati. Il CLN che prende possesso della città, i fascisti che scappano, diventa sindaco di Novara il vecchio professore Bonfantini, che era stato l'ultimo sindaco prima del fascismo. Quanto a me, mi mettono nel palazzo della prefettura, nella stanza dove assiede il CLN, a fare la telefonista. Ci troviamo in quattro donne, occupate in settori delicati e importanti, praticamente molto di più di quante se ne siano viste poi in tempi pacifici e meno pericolosi. Il fatto è che, passato il pericolo, i partigiani se ne sono tornati a casa per lo più, e così le partigiane, e sono saltati fuori altri più tenaci e certo anche più adatti. E qui è davvero la fine. Mentre da una parte della città arrivano i fascisti vercellesi, dall'altra avanza un enorme caro armato americano e la gente lo guarda stupita, incredula. Qualcuno dice? E volevamo fermarli con le nostre scatolette di sardine? Gli americani sono abbronzati e stanchi, ma ridono e gridano. Il primo che sa qualcosa di italiano si affaccia dalla torretta, butta monificamente cioccolate e sigarette e domanda. Come si chiamare questo villaggio? Villaggio, villaggio, pronto all'annovarese stizzito. Va bene che sono i vincitori, ma non esagerano. Via. Gli americani sembrano di un altro pianeta, ben pasciuti, ben vestiti, con un accampamento nel quale c'è tutto. Quanto alla nostra guerra domestica, essa finisce quando torna papà, cioè ancora alcuni mesi dopo, in agosto. Papà rientra dal campo di concentramento magro e stracciato, tanto che per un istante la mamma non lo riconosce quando lo vede alla porta. Per mesi avrà da raccontare della fame patita, del freddo, degli appelli interminabili nella neve, dei morti, di tutto, ma subito dai primi giorni conclude. Qualunque cosa il popolo tedesco abbia fatto ha pagato abbastanza, le città germaniche sono tutte una rovina e poi ogni guerra è una guerra civile e dobbiamo non volerne fare più. Appena ricomincia l'attività politica vera e propria ci schieriamo, quei resistenti che lo desiderano, nei vari partiti, ma, espresso o no, cosciente o no, l'intenzione di tutti è proprio questa, di fare un lavoro costruttivo, pacifico. Non sempre si riesce, ma al volerlo sul piano morale è già molto.